Oh mio Dio! Lo so bello! Come si è detto! Ma dove ci facesse una cazzata grossa? Bello! Ora che c'è anche lì la piattaforma Nooo, questo non l'avremmo mai visto Bello! Cioè, siamo vicino a un punto, ottimo Ciao! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 30. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.